Musica Vuoi acquistare dei giochi a prezzi bassissimi? Passo nel link in descrizione Verso il boss E oggi ho registrato due boss Tanto è un boss principale, giusto? Erano entrambi i boss principali Giusto? Sì, perfetto Dovrei prendere l'acqua, ma vabbè Ciao Black Hat Che dice Antonio? Dove si è stato oggi? Guarda mi sento un po' Faccio il tipo di vedere Ok, grazie Ti ringrazio Ma questi possono entrare qua? Ma quando? Ma da quando? Ah Ma cosa? Sì, vabbè Ma allora sei sleale però Ma è una è lei Questo boss Divoratrice Direi proprio di sia Divoratrice di gay Però io ho tolto un sacco di vita Nonostante che No, sono morto perché ha fatto sta pioggia Sta a casa di mia zia Ecco perché ci sono stato Ok No, allora le sto toliendo un sacco di vita Però l'unico problema è che Quando fa quell'attacco là Con tutte le spine È un cacchio di problema Dunque, siccome lei È una che dà più sul velenoso Allora la mia spada Va bene Fa 174 No, no, va bene Non ti preoccupare Black Questa è pesantuccia Però È abbastanza forte Però la mia fa 174 Che sta facendo 154 Più eventuale 61 E va bene Ha colpito comunque Porto 2 Ok Ok Non ti preoccupare Non ti sei perso niente di Di cosa importante Ok Fin che fa questa Non mi preoccupa Quanto fa con l'altra cosa Mi preoccupa Questa No Porco Giuda Porco Giuda No, vabbè Ma è fenomenale questa No, questa è forte Questa è forte Cioè Le faccio danno Però è forte comunque Eh Sì Vabbè Come 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 Allora Vediamo un po' E vabbè Ma ho colpito Ma ho colpito uguale Eh E vabbè Ma allora ditelo Ci mettiamo d'accordo Dai Dai Grazie a tutti Mi ha sfondato Bevi, 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 bevi Bevi la porzione, bevi la porzione, bevi la porzione Dai che ormai era diventato di fuoco Ormai era diventato così E dove è la cacchia Eccola Dai, dai Ce la stavo facendo Dai che è morta Si, 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 si Ah, unkindle one Ma? Ma no Grande, suggerimento, dimmi Grazie a tutti Grazie a tutti